benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento a quello di Rampage io sono Stefano la voce di A-Lab Italian Podcast e anche oggi sono qui per parlarvi di quello che ho visto succedere a Rampage una puntata abbastanza tranquilla una puntata che si è lasciata guardare senza nessun problema con un paio di picchi ma anche un paio di cosucce che non mi sono piaciute così tanto ma andiamo con ordine iniziamo dicendovi che se volete interagire maggiormente con noi un buon metodo è quello di venire sul nostro gruppo Telegram abbiamo pochissime regole che ci consentono semplicemente di vivere bene una delle regole su cui siamo più intransigenti è lo spoiler perché giustamente non tutti vedono eh contemporaneamente un prodotto quindi diamo delle tempistiche però entrando a far parte della nostra community avrete comunque eh maggior modo di interagire con noi e parlare trovare anche tante persone che amano la o l'elite che vogliono parlare insomma di questi temi di questi argomenti un'altra cosa che potete fare per aiutare ovviamente il nostro canale è quella di abbonarvi cosa succede perché ve lo dico adesso non vi ho ancora dato nulla nessuna motivazione per cui abbonarsi questo video ancora praticamente non è partito però facendolo ci potete dare una grossa mano noi portiamo un contenuto al giorno e sostanzialmente per i nostri abbonati facciamo anche di più con delle cose anche abbastanza interessanti per esempio questa settimana abbiamo fatto la traduzione del promo di MJF con William Regal quindi per esempio una cosa che è in più e che credo ci siano pochissime persone che lo fanno proprio chi guarda con Sky effettivamente ha il lavoro di Torrisi e Molla che sicuramente è prezioso ma per tutti gli altri insomma non sono pochi potrebbe essere una cosa interessante anche capire un pochino più a fondo alcune dinamiche ci sono delle cose interessanti valutate voi nel frattempo partiamo con questa puntata che comunque è stata abbastanza ricca iniziamo con il fatto che subito 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 ci sono i titoli di coppia in palio titoli di coppia in palio che in realtà sono una luce della questa quindi da una parte c'è in palio il titolo dall'altra parte c'è questo contratto questo trademark che il buon Mark Sterling ha in qualche modo pagato e ha ottenuto e sarà diciamo in gioco in questo match più o meno senza storia che cosa c'è in questo trademark c'è lo scissoring e quindi potranno di nuovo gli acclaim fare lo scissoring sì perché vincono mantengono i titoli e hanno anche il diritto di utilizzare quando gli pare questo trademark il match in realtà è stato un match contro i varsity athletes condotto per la maggior parte dei varsity athletes che hanno fatto molto bene hanno anche mostrato diverse combinazioni interessanti delle mosse di coppia molto molto buone e credo che ci sia margine per loro per vedere di diventare un pochino più grandi di quello che sono poi chiaro non è che si può pretendere che ogni coppia diventi campione del mondo però sicuramente è interessante è un profilo di quelli che quando vedremo lottare ci farà piacere oltre al fatto che hanno dentro un Mark Sterling che è praticamente oro colato che in effetti poi dopo che il suo team perde si ritrova sul ring tra l'altro Billy Gunn a un certo punto viene mandato via e ad hoc la situazione perché quando finisce il match che lui sta tornando è anche il momento in cui Mark Sterling vuole scappare con il contratto che rende suo lo scisso ring quindi insomma riesce a fermare l'uscita di scena di Mark Sterling e a riportarlo sul ring per vederlo ovviamente colpito sempre tanto nei testicoli da parte mi ricorda il secondo episodio di Chainsaw Man se lo guardate date un'occhiata vediamo a sapere che Penelope Ford è infortunata e che ovviamente ci sarà comunque un match per Willow Nightingale questo match verrà fatto contro l'Aila Gray ce lo dicono subito a inizio puntata i telecronisti ma poi ci viene detto anche da Tony Schiavone che è lì nel backstage con Jade Cargill la quale dice sapete il motivo per cui vi ho concesso l'Aila Gray dovete assolutamente ridarmi il titolo TBS e quindi in buona sostanza lei dice se non lo fate io farò come ho promesso cioè terrò in ostaggio Rampage che paura vabbè questo è un pochino quello che abbiamo visto ma sempre nel backstage vediamo un'altra scena che è abbastanza interessante con Kingston e Ortiz insieme che vanno sostanzialmente dal due dei tre del triangolo della morte cioè del Lucia Bros e insomma si parla di Eddie Kingston e gli si dice stai calmo abbassa i toni calma il tuo temperamento perché altrimenti si chiede essere insomma nei guai sembra tutto molto amichevole e tutto molto costruttivo finché non arriva Pac che ovviamente dice qualche frase un pochino troppo sferzante nei confronti di Eddie Kingston il quale quindi se la prende un po' ma il segmento si chiude senza che nessuno vada a collidere potrebbe esserci una faida magari tra appunto Kingston e Pac e magari si potrebbe incrociare anche qualcosa non credo ci sarà il ritorno di Santana intanto è troppo presto rispetto a quando è andato via per il tipo di infortunio che ha avuto in secondo luogo pare ci siano ancora molti dissapori tra Santana e Ortiz quindi non credo sia quello però magari con l'aggiunta di qualcuno potrebbero anche in qualche modo cercare di andarsi a prendere il titolo Trios potrebbe essere la prossima faida per il triangolo della morte e sarebbe una faida sicuramente interessante perché appunto tutti si conoscono molto bene potrebbe essere molto più carina di quello che sembra interessante ovviamente anche il match di Hook che questa volta fa un pochino di più più che altro le prende un pochino di più ovviamente lotta con Ari Daivari quindi non è che possa perdere però diciamo Ari Daivari tra lui e il battler che si è portato dietro a Bordoring riescono in qualche modo a distrarre Hook il quale abbiamo visto subire ma poi essere in grado anche di ritornare in forza forse serve qualcosina di più per Hook era il suo tredicesimo match questo troppo poco deve lavorare di più deve fare qualcosina di più deve anche perdere qualcosa e insomma vedremo come andrà la cosa interessante è che hanno provato a giocarsi la solita carta dei trust buster che sono ricchi e quindi vogliono comprarla no? la cintura FTW e quella famosa busta che abbiamo visto qualche settimana fa che era stata strappata da Hook conteneva un assegno stavolta sono arrivati di quei soldi e ogni tanto nel vero che capita questo tipo di gimmick del ricco che arriva e vuole comprarsi tutto e vabbè ce la teniamo non possiamo fare diversamente sempre nel backstage vediamo Matt Hardy con Ethan Page e Stockley Hathaway viene a scoprire Matt Hardy che i private party sono andati nell'accademia del firm a imparare le basi questo ci viene detto e mentre invece lui scopre di avere un match a Dark Elevation e quindi non è di lo vedremo a Dark Elevation quando scopre questa cosa comincia a fare un discorso abbastanza sconclusionato nei confronti di Hathaway e Page Hathaway se ne va via Page lo guarda in modo un po' stranito che ci sia un nuovo cambio di gimmick per Matt Hardy e chi lo sa io vi consiglio di guardare Dark Elevation lunedì magari ne sapremo qualcosina di più per il momento quello che sappiamo è che è coinvolto fatto che la settimana scorsa lo sappiamo ha perso la possibilità di stare da solo il suo contratto è finito nelle mani del firm vedremo che cosa andrà a succedere buono anche se con qualche imprecisione invece il maestra Willow Nightingale e Laila Gray è abbastanza brava senza eccellere Willow Nightingale sta imparando molto bene a stare sul ring di una major al punto che a fine match dopo la sua vittoria si trova sul ring con Tony Schiavone il quale le dice che Willow Nightingale è ufficialmente All Elite la grafica che aspettavamo la grafica che sancisce effettivamente quello che è insomma il la carriera di Willow Nightingale in All Elite e ora ragazzi questa è molto molto amata dal pubblico vediamo che cosa salta fuori io sono curioso lei mi piace molto quindi vedremo vedremo dove andrà a parare e a proposito di piacere se vi piacciono i contenuti che facciamo se vi sta piacendo per esempio questa review beh il like è gradito il like serve assolutamente a noi per entrare in quante più home possibili di persone che amano il wrestling e magari hanno così cercato un po' un canale che potesse parlare di wrestling senza trovarci potrebbe essere l'occasione a quella di stuzzicare un pochino l'algoritmo e vedere dove ci porta che più siamo e meglio questo è credo chiaro e legittimo per tutti il main event invece il main event è un three way valido per il titolo all atlantica la prima esiste in questo match è assurda è però il classico orange cassidy che finalmente tira fuori un po' una parte della sua gimmick no si frega cazzi si lo faccio stavolta è un si propositivo a questo titolo nello zaino fa molto le da che porti il titolo nello zaino così non fa fatica e lo mette in paglio all'interno di una faida tra il buon rush e preston vans ten ten gli hanno messo gli occhi addosso quelli della fashion e lo vogliono il problema che andrà del momento non c'è e quindi per allungare un pochino il brodo molto probabilmente hanno aggiunto orange cassidy hanno aggiunto un titolo e abbiamo visto un match molto buono condotto per la maggior parte da rush che è sicuramente un performer straordinario e può dominare ha fatto il bello il cattivo tempo è stato davvero bravo all'interno della dinamica non mi è dispiaciuto nemmeno ten che è uno di quelli che purtroppo avendo lui il morbo di cron probabilmente non verrà mai diciamo pushato pesantemente perché poi ci sono dei giorni dei periodi in cui magari deve fare delle cure delle situazioni quindi potrebbe anche essere un pochino un vincolo però è molto bravo fa bene quello che deve fare e credo possa funzionare molto bene mi puzza il fatto che sia stato visto sia nel backstage che poi a fine match con negative one speriamo che negative one è molto amico di preston vans se davvero vogliono tagliare preston vans dal dark order è dura molto molto dura perché probabilmente devono fare un distacco da negative one e non sarà facile non sarà facile il match è stato buono è durato abbastanza per mostrarci bene tutti e tre i contendenti fare cose con davvero rush ciliegina sulla torta cosa che ovviamente salta fuori è che il match è stato assurdo dal punto di vista della costruzione senza di capo né coda se non appunto la gimmick di di orange cast ma non c'è stato veramente motivo è uno di quei match che dici boh perché forse sarebbe stato più onesto o non metterlo o aggiungere qualcun altro magari che ne so farò diventare di coppia in qualche modo non so non è stata una soluzione che ho gradito che ho apprezzato così tanto però ci sta a fine poi della puntata c'è stato un ricordo per quel collaboratore della all elite che si occupava di video all'interno della compagnia che purtroppo è venuto a mancare in settimana lascia la famiglia insomma una fidanzata quindi permessa sposa e ovviamente che avevano avuto anche dei figli insomma situazione brutta bello che non abbiano semplicemente fatto un'immagine ma ci sia stata anche la voce di Escalibur che ha proprio detto alcune parole importanti riguardo questo collaboratore che era anche un amico di molte delle persone che sono lì in onerita e noi l'abbiamo già fatto ma ci stringiamo comunque in un abbraccio virtuale alla famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze questo è stato eh questo è stato Rampage un un bello show alla fine mi sono dimenticato una cosa mi sono dimenticato una cosa alla fine del match Willow Nightingale arriva effettivamente Jade Cargill che vuole la sua cintura e dice che non se ne va finché non si riprende la cintura in realtà arriva eh prima un'immagine di Naila Rose che è sulla macchina di Jade Cargill che oltre al eh titolo le ha rubato pure la macchina e se ne è andata via da Jacksonville eh inoltre poi arriva la security per cercare di scortare fuori Jade Cargill e lei piccherà la security chissà magari faranno un match contro la security ci saranno boh sette otto persone e lei andrà a cinquanta zero più o meno così poi le potranno togliere il titolo è quello che speriamo noi io nel frattempo vi ringrazio di cuore per aver seguito questa review ci sentiamo ovviamente molto molto presto io sono Stefano la voce di IW Italian Podcast noi ci risentiamo alla prossima